aspetta un'altra eia non metterlo così vicino cosa così vicino aspetta 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 un attimo di pazienza sta qua lo riesci a prendere niente ma sei proprio incapace ti devi mettere più ti vado preso che chifo si ma la mordi me la devi ingoiare eccola qua che bella questo è il mio gusto degli uccelli stò primo piano alla schifezza che ti mangio ma sei stato bravissimo ti sei mangiato tutto è già finito tutto e ora